Ciao a tutti, sono Gianluca Bocci e come capirete da cosa in mano oggi vi parlo della Panasonic Lumix G9, che è una fotocamera particolare nel catalogo della Panasonic in quanto va a dichiarare noi ci occupiamo anche di fotografia. Infatti Panasonic finora come linea ammiraglia c'era la GH, vi rimando qui sopra la recensione alla GH5 appunto, l'ultima ammiraglia, ma la GH è una linea dedicata al video. Non è una novità, anche questa recensione in questo momento è stata realizzata utilizzando la Panasonic GH4, la vecchia ammiraglia video. Se poi volete vedere un cortometraggio che è realizzato e sottoscritto sempre con la GH4, vi rimando qui sopra questo cortometraggio, un fan movie dedicato a X-Men. Ma tornando a noi, questa invece è una fotocamera, lo si vede anche dal display di stato vecchio stile sopra, dedicato ai fotografi e ha alcune caratteristiche, farò vedere tra poco davvero uniche, fa quasi sorridere per il piacere vedere delle accortezze pensate a chi si dedica alla fotografia. Siete curiosi? Venite a seguirmi lungo questa recensione, poi come al solito se vivete Fast and Furious e volete subito andate alla fine a vedervi le pacelline. Ma adesso pian pianino andiamo a vedere le sue funzioni. Allora, eccola qui, vi faccio vedere subito poi l'accendi spegni per un dettaglio. Hanno messo un'accensura che ricorda un po' quello delle Nikon, secondo me molto comoda. Sulla precedente serie era a portata di pollice, sulla ghiera della movilità che adesso è spostata a sinistra, tra l'altro con il pulsantino di blocco, quindi altra cosa aggiunta. Adesso invece è a portata di indice, quindi si accende e siamo subito pronti per andare a scattare. Evidente il display di stato superiore con retroilluminazione che possiamo anche regolare su due livelli, che si attiva sempre con una rotazione del tasto di scatto acceso, spento, davvero fantastico. Abbiamo praticamente tre ghiere, una, due e tre, cioè una cosa fantastica. Abbiamo il doppio slot per schede di memoria, uno e due, giustamente il messaggio di protesta, visto che è accesa, dovrebbe essere riprendersi. Schede di memoria non trovata, ecco siamo a posto. E poi vi dicevo, anzi vi dico, ergonomia fantastica, la cosa più bella che mi è piaciuta è il joystick a portata di pollice. Allora, non abbiamo tante modalità di messa a fuoco, quelle classiche con rilevamento del volto e degli occhi, il trekking, 225 aree, personalizzazione multipla, singolo o messa a fuoco, precisa la chiama. Sulla personalizzazione è fantastico, possiamo scegliere sia la dimensione dell'area, per esempio possiamo prendere, mi piace molto questo occupamento di 5 punti, e andarcela a spostare, non so se riuscito bene a vederla, penso proprio di sì in questo modo, dove vogliamo. E quindi l'abbiamo collocata, vedete, in alto a destra. Sia però premo il centro il joystick, questo è davvero fantastico, va al centro, lo ripremo, torno sulla posizione di prima. Questa, ragazzi, è una cosa davvero, davvero fantastica. Poi, altre cose particolari da dire, andando su menu, sulla chiave inglese, abbiamo il modo notte. E questa è un'altra cosa davvero fantastica. Lo accendiamo sul monitor e guardate, diventa un monocromatico rosso, che è davvero fantastico. Pensate, andate a fare della fotografia notturna, che succede? Siete al buio, gli occhi, i nostri occhi si abitano al buio, appena accendete il display, boom, venite accecati dalla sua luminosità violenta, che invece la luminosità rimane delicata e rimane sempre così. Vi faccio vedere una foto in riproduzione. In questa modalità, vedete, diventa tutto monocromatico rosso. Quindi, se noi vogliamo comunque andare a controllare la messa a fuoco, tutte le funzioni comunque rimangono assolutamente invariate, il touchscreen vi dicendo, ma tutto senza andarci ad accecare, cosa che io ritengo assolutamente fantastica. Lo andiamo a spegnere e vi faccio vedere altre caratteristiche molto interessanti. Allora, innanzitutto, la raffica, abbiamo questo selettore qui sotto, quello della modalità, su che abbiamo varie selezioni. E' anche bello che abbiamo la possibilità di memorizzare due tipi di raffiche differenti, tipo 1 e tipo 2. Possiamo andarla a cambiare semplicemente con il quick menu e possiamo quindi andare a gestire tutte le varie impostazioni. E abbiamo raffiche, ve la faccio vedere un attimo con l'otturatore aperto, mantenendo il live view e l'otturatore meccanico a 7 frame per secondo. Rinunciando all'live view, quindi avremo il minimo nero, con l'otturatore meccanico arriviamo a 12 frame per secondo. Utilizzando il solo otturatore elettronico, ragazzi, arriviamo a 20 frame per secondo con l'autofocus continuo e a 60 frame per secondo con l'autofocus singolo. Cosa davvero incredibile e anche simpatica, perché con l'otturatore elettronico noi riempiamo una scheda e non ci rendiamo conto, se non appunto che vediamo il contatore che schizza assolutamente alle stelle. Altre cose interessanti sono il post-focus. Ve lo faccio vedere, vedete, quando c'è un post-focus abbiamo la possibilità di attivarlo. E cosa succede? Lui praticamente fa una serie di scatti su più piani di messa a fuoco, ovviamente funziona solo con la macchina aforafica, possibilmente su cavalletto, o comunque andando a riprendere soggetti statici. Dopodiché noi andando a toccare, vedete, spostiamo a messa a fuoco dallo sfondo al primo piano, semplicemente ha fatto più foto e memorizzato appunto su quale punto è stato messo. Quindi andando a toccare sullo schermo, lui prende e va a spostare. Non è la fotografia plenottica dell'Aitro che poi ha cambiato completamente senso, questa azienda qui. Però è una funzione molto interessante. Ma ce ne sono talmente tante, vado un pochettino a braccio. Altra cosa apprezzabile, abbiamo comunque ingresso microfono, abbiamo l'uscita cuffie, le funzioni video sono assolutamente ottime, abbiamo il contatto a caldo per flash, una manopolina personalizzabile, possiamo scegliere cos'è funzione 1 e 2, due tasti personalizzabili sulla parte destra della baionetta e parte, vedete, FN1, FN2, è tutta personalizzabile, ce la possiamo cucire addosso. La funzione di ricarica USB, noi possiamo prendere, diciamo, ok, facciamo fotografia notturna, un timelapse di 800 scatti, la batteria interna è accreditata e 400. Come facciamo? Powerbank collegato direttamente qui e via, ci mettiamo un powerbank da 20.000 mAh e vai avanti senza assolutamente problemi. Ma andiamo un attimo a parlare davvero di scatti. Allora, innanzitutto, guardate questo bel paesaggio, foto semplice, condizione di luci comunque semplice, anche se con un po' di foschia, aiuta molto il Laika 1260 che ho avuto in prova, dettaglio davvero bello, bello, bello. Ma più interessante andare a vedere appunto la mia piccolina Agnese è che coglierla al volo mentre sta giocando è difficile. Qui con la sua messa a fuoco, anche se è elemento di contrasto ma non di fase, ci sono riuscito. Guardate ad esempio in questo caso con la bimba che giocava con il suo riflesso sulla finestra, io stavo lì accanto e sto sul divano a giocare all'aria con la G9, alzo e foto fatta. Stesso discorso, si stava arrampicando su dei giochi al mare, il sorriso la becchi direttamente. Ma andiamo anche a vedere quelli che sono gli scatti ai varie sensibilità ISO. Allora, dagli 200 ai 800 ISO sono ottimi in maniera assolutamente evidente. Arrivati a 1600 ISO si inizia a notare la presenza della riduzione del rumore, che aumenta man mano ma rimane comunque utilizzabili gli scatti fino ai 6400 ISO. Quando andiamo oltre, 12.825, scusatemi, sono scatti utilizzabili soltanto per situazioni in emergenza. Ma un'altra funzione che vorrei farvi vedere all'interno del menu è il modo alta risoluzione. Allora, questa macchina ha uno stabilizzatore a livello di sensore su cinque assi, accreditato niente di meno di 6,5 stop. Quindi possiamo utilizzarla senza cavalletto, quasi senza il minimo problema, sempre con soggetti statici. Ma questo stabilizzatore cosa permette? Di fare praticamente una serie di foto spostate di un pixel sopra, sotto, sinistra e destra e quindi di quadruplicare la risoluzione. Cioè si passa, guardate questa foto, un crop da 20 megapixel che è la sua risoluzione nativa e questo è il crop della risoluzione portata a 80 megapixel. Davvero, davvero impressionante. Quasi ci fa dimenticare la necessità di prendere fotocamere full frame senza andare a fare polemiche. Mi avete capito, parliamo soltanto di risoluzione. Ma a questo punto, insomma, vi ho fatto vedere anche troppo, andiamo alle pagelline. Bene, eccoci qui per le pagelline. Allora, cosa mi piace? È pensata per i fotografi. Effettivamente non ci sono differenze così abissali tra la GH5 e questa G5, però ci sono tutta una serie di accortezze, di scelti di ergonomia, di voci nei menu, di alcune parti fisiche. Pensate per chi di professione fa il fotografo. Ne ho messo alcune qui che le hanno colpito di più. Il joystick, avete visto questa cosa fantastica che con una pressione si basa dall'ultima posizione del punto o dei punti di messa a fuoco a quella centrale e viceversa. Fantastico. Il modo notte per chi fa fotografia notturna e non vuole essere accecato il display. Fantastica. L'alimentazione USB per chi fa lunghissime sessioni fotografiche, magari appunto, non so, dei timelapse o dei stop motion, sempre fantastica. E comunque la qualità immagine c'è. Quindi, vedete, ho riempito la pagina, c'è molto da dire sul piace. Sul non mi piace due cose. Allora, anche questa G9 c'è niente autofocus a rilevamento di fase. Ho letto un'intervista su internet appunto ai progettisti e ingegneri di Panasonic in cui dicevano che preferiscono il loro sistema rilevamento di contrasto ottimizzato e migliorato negli anni rispetto a quello rilevamento di fase perché queste qui possono creare, anzi creano effettivamente, degli artefatti che devono essere risolti via software perché un rilevamento di fase sul sensore è un sensore che si occupa di mettere a fuoco e non di leggere la luce. Quindi sono dei sensori in teoria spenti come se fossero dei pixel morti. Va bene, però le prestazioni di rilevamento di fase è indubbiamente un livello ancora migliore. Quindi, l'avete visto, ve l'ho detto, sono riuscito a mettere a fuoco le mie belve scalmanate. Però il rilevamento di fase secondo me è sulla G10 Panasonic, pensaci. Altra cosa Panasonic, per me è troppa risoluzione. Il sensore micro 4 terzi ha una superficie direttamente ridotta. Metterci dentro 20 megapixel secondo me è una forzatura. Per quanto non c'è il filtro passo a passo, per quanto il motore del processore immagine è ottimizzato, comunque già arrivati a 1600 ISO si incomincia a perdere il dettaglio fine. Guarda caso, la Panasonic al CES di qualche giorno fa ha presentato la GH5S che ha soltanto 10 megapixel e restituisce immagini e video di qualità migliore. Quindi anche la prossima G10 rilevamento di fase è 10 megapixel, perché ragazzi queste macchine con 10, 20, 30, 50 megapixel vi servono soltanto se fate stampe o crop enormi. Se fate le foto per il piacere di stampare al massimo un 30, 45, 10 megapixel basta e avanzano, ma la qualità di quei 10 megapixel possono fare la differenza. Questa è la mia opinione, se non siete d'accordo mi raccomando discutiamone nei commenti, sono lì per questa ragione. Se il video vi piace un bel mi piace lì sotto fa piacere e per sostenermi è semplice, condividete, condividete, condividete. Se poi non siete già iscritti il bollino vi aspetta lì per essere cliccato e se volete vedere subito un altro video ve lo suggerisco che a fianco. E come sempre ciao e da me e dalla Panasonic G9, alla prossima!